In questo tutorial verranno mostrate le modalità con cui procedere al saldo dei compensi dovuti al commissionario, qualora previsti, e al saldo del bene nel caso in cui si risulti aggiudicatari di una gara. Anzitutto dovremmo recarci alla pagina del dettaglio dell'asta. Per fare questo, clicchiamo sulla voce Profilo e selezioniamo la voce Aggiudicazioni. In questa sezione vengono mostrate tutte le aste che l'utente si è aggiudicato. Per eseguire il pagamento dovremmo cliccare sulla voce Paga adesso relativa all'asta che ci siamo aggiudicati. Una volta reindirizzati alla scheda di dettaglio dell'asta, qualora siano dovuti dei compensi al commissionario, verrà mostrato il tasto Procedi al saldo compensi. Cliccando sul tasto, verremo reindirizzati alla scelta del metodo di pagamento. Qui potremo scegliere se effettuare il pagamento tramite bonifico o se abilitato con carta. Se decidiamo di pagare con carta, clicchiamo su Pagamento con carta di credito. Nello step successivo, clicchiamo su Effetto pagamento per essere reindirizzati alla pagina del gateway selezionato e seguendo le istruzioni potremo eseguire il pagamento immediato in maniera totalmente sicura. Se decidiamo invece di pagare tramite bonifico, nell'apposito box verranno mostrati l'importo da versare, i dati per il versamento e la causale da indicare nel pagamento. Se il bonifico è già stato effettuato, potremo cliccare su Inserisci estremi versamento. Nello step successivo, bisognerà dunque indicare l'intestatario del conto, il numero cro o trn dell'operazione, la data di versamento ed allegare la ricevuta. Clicchiamo poi su Effetto pagamento. Confermiamo. Se tutto è andato a buon fine, riceveremo un messaggio di conferma. E verremo dunque reindirizzati alla pagina del bene. Qualora si sia proceduto al pagamento tramite bonifico, verrà dunque indicato che il saldo dei compensi è in fase di verifica. Questa operazione non è richiesta se il saldo viene effettuato con carta di credito. Una volta che l'accredito del bonifico sarà stato verificato, verrà mostrato il messaggio che indicherà che il pagamento dei compensi è stato autorizzato. Eseguito il pagamento dei compensi o qualora non siano previsti, nella scheda di dettaglio dell'asta verrà mostrato il pulsante Procedi al saldo prezzo. Cliccando sul pulsante, verremo riportati alla schermata di selezione del metodo di pagamento. Nei rispettivi box saranno dettagliati gli importi da versare. Nel caso in cui si decida di pagare tramite bonifico, saranno riportati anche gli estremi del versamento e la causale da indicare. È possibile procedere al pagamento come mostrato in precedenza per il saldo dei compensi. Una volta inserito il pagamento, il sistema indicherà che il pagamento del saldo è in fase di verifica. Questo avviene unicamente se il saldo prezzo avviene a mezzo bonifico. Come per il saldo dei compensi, non appena il pagamento sarà stato verificato, verrà mostrato il messaggio che indica che il pagamento del saldo è stato autorizzato. Con questo si conclude il tutorial relativo alle operazioni post aggiudicazione.